Bird Skate Battle Day 2 Sempre in compagnia del Team Vans Siamo a Prato oggi Sono in compagnia di Simone Verona Oggi Simone è giornata un po' più bella Spiegaci il tema Siamo stati in due spot Entrambi ci siamo cacciato Il primo siamo riusciti a scatare un po' A Emiliano Banks sulla strada per Prato Però sul più bello ci hanno mandato via Il secondo è giusto al tempo di mettere giù i flash E siamo stati mandati a casa Ora siamo qui allo spot famosissimo I Treppi e Catenella qui a Prato Sperando che qualcosa succeda Se non ci cacciano sicuramente qua il GIGO Una bomba la butta giù Come la vedi tu per la giornata? Perché oggi si è combinato veramente poco Mi sa che potrebbe servirci il generatore pure stasera Allora il guest skater del giorno È sempre Marco Giordano Che è qua dietro di me E si sta preparando per un challenge Sarà ancora il challenge Per il generatore con le luci Mi sa che anche stanotte Facciamo tardi E allora state connessi Che vedrete le nostre avventure Oggi un po' sfigurate Ma divertenti Ciao 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 Ciao